Fra Giuseppa, una protesta questa mattina sotto al Comune, quali sono le motivazioni e cosa si chiede all'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale per questo servizio gioiello di famiglia riguardante i bambini con handicap toglie i soldi, toglie le risorse economiche al servizio e in pratica non lo azzera ma lo mette in grossa difficoltà perché non si assumono più le supplenti dal contratto a tempo determinato, per tre giorni di malattia non si fanno più le sostituzioni quindi i bambini rimangono soli, è stato tolto il pranzo in mensa a queste signore che è diseducativo per i bambini perché la maestra, l'insegnante di sostegno, i bambini mangiano, le AIC non devono più mangiare. Sono state tolte 200 ore settimanali al servizio di Ippocrate e Ippocrate si trova in grossa difficoltà anche per reperire i risparmi di gestione che portano poi a un gruppo di lavoro estivo, un centro estivo per bambini che va a compensare i tre mesi di stipendio che non prendono perché loro hanno il contratto annuale ma poi gli viene applicato il contratto scolastico e questa è un'altra cosa grave. È stato tolto il premio di produttività e mentre tutti gli altri componenti delle società partecipate continuano a percepire buono pasto ed altre cose. La situazione va avanti così, il sindaco adesso ha preso la briga di comunicarci qualcosa non è una cosa corretta perché in stato di agitazione bastava una semplice convocazione sindacale e si metteva ancora una volta nero su bianco. Se poi i verbali arrivano dopo un mese, due mesi non possiamo farci nulla. Lo stato di agitazione continua. Il sindaco ha rinnovato l'impegno per una maggiore considerazione del servizio EIC, quello di assistenza scolastica che noi svolgiamo da anni. Il fatto è che noi svolgiamo questo lavoro con questa tipologia di utenza molto delicata e noi rinnoviamo il nostro impegno professionale attraverso i corsi di aggiornamento sia aziendali sia privatamente, quindi investendo anche del nostro, anche i nostri soldi. Abbiamo un'utenza delicata perché si parla di minori con disagio sociale e con diversa abilità e quindi negli anni i vari sindaci che si sono succeduti hanno sempre proclamato l'impegno a aiutare il servizio, a migliorare il servizio, però poi di fatto ci sono state tolte tante garanzie come i buoni pasto in primis, i premi di produzione e poi, più grave di tutte, alla fine le ore. Ecco, noi lo stato di agitazione l'abbiamo proclamato proprio per questo taglio delle ore perché non è possibile che una ASL di una città come Civitavecchia, che ha tantissimi utenti nelle scuole ha un organigramma di un servizio di 70 assistenti, veda tagliate le ore. Allora, quindi, noi, il sindaco ha risposto, diciamo, con comunanza di intenti a quelle che sono le nostre richieste e noi ci auguriamo, vogliamo credere, speriamo, vogliamo credere che sia così e quindi speriamo che il servizio venga migliorato, che ci venga ridato tutto quello che ci è stato tolto e che vengono migliorate le condizioni per esercitare la nostra professione.